De Feudis, Luciani, Arcidiacono e Ianga a parte. Tra giocatori in dubbio e alte alle prese con i rispettivi problemi fisici, Stefano Sottili deve trovare soluzioni per la sfida con la Viterbesi in programma domenica alle 20.30. Sul campo di Badialpino non hanno preso parte all'allenamento né De Feudis né Alessio Luciani rimasti al cittadierezzo per risolvere i rispettivi problemi fisici. Arcidiacono è rimasto a riposo mentre Ianga ha svolto con il gruppo solo il riscaldamento. Sottili sembra orientato a scegliere tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1. In difesa c'è la possibilità non da poco di poter contare su quattro centrali pronti ad ogni evenienza. Ecco perché Sottili ha provato sia la coppia Milesi-Sirri che quella Muscat-Solini. A sinistra Sabatino va verso la conferma mentre Masciangelo se non dovesse recuperare Luciani sarà dirottata a destra. Una mossa che apre già una pista in chiave mercato. Luciani fin qui ha messo insieme 21 presenze tra campionate e Coppa pur avendo come sostituto il giovane 98 Ba. Se però al momento del bisogno l'Arezzo sceglie di schierare in quel ruolo un mancino naturale come Masciangelo è chiaro che lo staff tecnico non giudica ancora pronti il baby Ba. A centrocampo c'è da capire se De Feudis sarà della partita a foglia anche con la protezione al setto nasale. Non ha accusato problemi con radia in forma e se De Feudis recupererà avanti con la mediana a tre. Altrimenti le alternative sono il 4-4-2 che permetterebbe di schierare sia Moscardelli che Polidori oppure il 4-2-3-1 che metterebbe in moto Grossi, Erpen e Bearzotti alle spalle però di una sola punta. Domani ultimo allenamento per sciogliere ogni dubbio con la rifinitura in programma a Cittagliarezza a porte chiuse.